Dovemmo ripartire... Ah niente, questo non ce l'ho... E' già loggato, perchè non ce l'ho gruppato? Ehm, io perchè non ti vedo il gruppo? Ah, io non vedo il gruppo. Se vieni da me ci sono anche dei... Oh salutiamo tutti! Landmark! Ehm... Qui c'è un bel caldino ai mani del tuo computer. Dove sei? Eh, fai come to France. C'è un Chompers gigantesco. Non c'è l'arco io. 80 metri. Mi te la porta? Sì. Vabbè, questo è il Landmark. E noi... Mettiamo su un hunting party. Perchè abbiamo deciso che... Si va a caccia delle shard più che altro. Sì, altrimenti sai che predatura che non si può costruire più niente? Allora, leggo sulla chat general che due main claims e otto banderini attaciti è il massimo che si può avere in questo momento. Come grandezza della... Della claim. Sì. Noi non riusciamo a gestirne una, quindi un po' se... Ce ne possiamo permettere otto, però. Nel senso che ce le siamo perso, però questa ho messo la data, il giorno prima. Ci sono dei problemi. Eccoti. Sì, non ti vedo, ma... Ecco sei a pasta. Ciao! Ok, adesso... Stoppiamo un attimo... Il gioco va davanti, ma parliamo con... Qualcuno del nostro teplo. Questo è il mio teplo. L'amore che mangiando... Un arlo, uno, uno, un ego... E still, la tuaпр Dag. Non ci vedo, ma sorti, ma av*** Grazie a tutti. 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 E' perché non lo attivo mai perché il tasto Q attiva il gancio. E' il gancio. Ok. Dai, vieni qui dal Frozen Chomper, per favore. Così, non fa il culo, per favore. Odio quando arrivano i fungettoni di merda, va bene. C'è una cosa che ha fatto. Ok. 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 Ok, fatto giù. Fatto giù è bellissimo. Un attimo di italiano veramente penoso. Eh, diciamo che... Io vedo ancora la gente morte, no? Sono i zampilli del... I zampilli del... del chopper's qua. Sì. Ok. Oh, se vuoi prenderti qualche erbetta... Io prima. Eh no. Ma no. Ok, cerchiamo. No, dai. Guarda, guarda. Qua davanti c'è un'altra erbetta. Figliati questa. Andi a me. Già scritto? E al frattempo noi intratteniamo anche la polsa di soli. Dove andiamo? È a caccia di mostri. Siamo in due, sì. Facciamo un hunting party. Un hunting day. Hunting. Hunting. Ho il... No. Ho il naso chiuso. Putta persona. Ecco. Credo che sia ripoppato i frozen choppers. Sì. Ok. Cambio? Sì. Ok. 54 metri. A 40 metri. Sotto i 50 metri. Però se stiamo vicini. Spara. Tutti e due. Ci diamo tutto lo colpo. Eh. Sì. O anche sui. Come al mio suavito. come al mio suavito. Come al mio suavito! Come al mio suavito. Come al mio suavito. 6 gare abbastanza in scioltezza sotto i 50 metri ok mi piace questa storia dello streaming vabbè è leggermente meno impegnativo che fare i video per youtube direttamente nel senso che c'è un po' di preparazione di editing qui quello che viene viene quello che succede succede non è che facciamo molti tagli sui video di youtube in realtà con la sigla qui niente sigla metteremo un cartello credo quando presentiamo e via così se non è qua davanti metti su le armi eccolo qua dietro alla collinetta c'è anche il chomper se ci fanno il chomper non ci possiamo fare la bovinazione allora la bovinazione si sta spostando allora ci possiamo fa uno dei due non tutti e due moriamo no il chomper adesso sono tutti i 30 metri via vabbè ci sono sempre mangiati più a far oh come cazzo ho fatto a morire così ok ce n'è un altro più sopra io resto e torno attento a quello posizionato più in alto si ce n'è uno poggiato su sinistra si dai postati e fermati che torno non ho idea di che succeda sul si è un po' bloccato il nostro no? no no ho il ritorno in cuffia è un po' indietro rispetto a quello che vediamo noi ok mi sento un po' lontana io in realtà eh perché non hai passi al mio microfono passi al mio microfono passi al mio microfono ho due microfoni qui intanto faccio un po' di raccolta che non fa mai male arrivo c'è uno che ci vede siamo noi che controlliamo se si vede o no il credo di sì sì lo dice qui ci autoguardiamo sto arrivando eccomi ah ma inizio io mi sposto sempre ecco qui ok facciamo fuori il wisp dio le spalle non lo riesco a accendare o mi fa venire a divano ok noi continuiamo a ricevere messaggi telefonici qui dovremmo più ok recupero un po' sì nel frattempo rispondo al telefono rispettiamo comunque siamo in un ambiente tutto ghiaccio e siamo con le tette all'aria così per dire ma che ci volle come dicono da queste parti cioè ce l'abbiamo un po' caliente volle saper bollire sì una volta che tu ti dici non è più comodo ok leviamoci dai ucci però io che ho beccato mi ricordano un po' i mostrici ottonutti la mia tosse effetto interact with the target non volevo interagire con il target comunque se non ci metto le mount io questo gioco lo squalifico te lo volevo dire nonostante la sua bellezza indiscutibile sono d'accordo a me piace tanto costruire i vestiti inizia essere un po' diciamo che noi siamo su satisfaction è il server europeo e lo shard è barrier credo che ormai noi possiamo essere considerati i cittadini di questo siamo quelli che da più tempo sono qui costantemente qui è un tier 1 molti giocatori tendono a stare sui tier alti perché sui tier alti raccogli più facilmente i materiali mentre noi ci dobbiamo trasferire da due patch fa hanno inserito sono morto adesso nel video hanno inserito livelli multipli sotterranei quindi anziché prima si entrava dalle caverne si entrava da sopra adesso si va al portale e si scende nelle caverne dove ovviamente ci sono più risorse e ammusti più forti ma con il portale puoi viaggiare senza problemi quindi a me piace questo posto dove stiamo mi soddisfa ok nel frattempo che non ripropo a qualche modo io vi faccio vedere anche un colpo si perché per la seconda volta da quando giochiamo abbiamo avuto un problema con la caverne pensavamo che la durata di scadenza fosse in tre giornate invece è un orario ben preciso non copre le 24 ore ma la scadenza che è alla scadenza della claim ti cancellino la claim e tu la debba riposizionare per tutto quello che ne comporta perché il terreno si ripa come era prima si ritorna alla condizione originale di conseguenza bisogna ripulirlo e ricostruirlo noi l'abbiamo riposizionato in una zona migliore che precedentemente era occupato un altro giocatore che probabilmente o non gioca più si è spostato ed è stato un problema perché abbiamo più di 170 prop diciamo che è un po' un problema del gioco un po' un problema nostro perché tu vuoi giocare a questo gioco le regole sono queste adatte e noi ci siamo all'adattato purtroppo impareremo dei nostri errori che abbiamo vuoi tornare a casa? o andiamo un altro po' a caccia? nel frattempo ma potremmo andare un altro pochino a caccia ok siamo andati alla caccia del leon pen pen no? si potrei così snocciolare canzoncine di accompagnamento al cammino così così proprio come se piovessero come se piovessero come se piovessero ok cerchiamo in questa zona ce n'erano abbastanza ieri di di mostri tutti i mostri tutti i mostri diciamo che al momento per come siamo armati è una roba molto di base il grosso del problema è affrontare i chompers i mostroni sì che in solitario è pressoché impossibile eccolo è un altro eccolo aspetta dividiamoci ok ci sei? ok mi passa davanti io direi che tornando verso lo scaccherai l'abomination allora noi siamo posizionati qui su qui c'è una costruzione che ti vuole far vedere non so se hai visto tornare indietro possiamo tornare indietro volendo andiamo di qui quelli che sanno le lingue chiamerebbero differenze climatiche biome le lingue non le so e quindi non le chiamo soprattutto se vado nella direzione nella direzione opposta di quella in cui dovremmo andare eccola là sopra comunque forse la vedi là su in alto a mezza altezza si ah è ripoppato ciao lo prendiamo? stiamo a posto per fortuna ci stavo perché ti vuole penne io ok ho tolto l'arma sperando che diciamo nel recupero della vita ma ho capito perché con l'arma mi considera incomod ma è volante questa costruzione? credo che stia costruendo con una base tipo AX ho visto ieri mentre passavo aspetta che qui c'è del ricordiamo che al momento visto che giochiamo da abbastanza possiamo pagare la claim per 30 giorni la paghiamo in coppers ci servono circa 9000 coppers per pagare 30 giorni un minimo sì anche giorno per giorno 300 copper al giorno con cui si posso pagare quei punti con gli stessi sì come adesso sono diventati indispensabili i shark che troppo agli mostri non è che ci dispiace fare del pv assolutamente anzi prima senza era quasi vuoto mettete delle mount però ve ne prego fateci fare una stalla per mettere le nostre mount sì mi piace la stalla mettete anche dei pet quelli mi piacciono tutti con un micetto uh dei perellini i perellini mi piacciono mi sembra un po' ola ok ora andiamo? sì andiamo abomination ma guarda non lo agriamo se non lo colpiamo oh ti ho perso wow sono senza tutto la claim di questo tizio ora sei entrata dritta nella collina comunque noi sappiamo che richiede un certo lavoro un sacco di tempo robins si guarda sotto no richiede un lavorante tutta questa struttura voi forse non avete idea di cosa significa fare le scale ok torniamo verso casa nostra credo che sia anche presente il robinzins lo vedo qui ok media noi siamo qui controllo ok così ho un indicatore ok io pure un indicatore 800 metri ok via 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 adesso ci sono i danni da caduta che non c'erano fino a qualche patch fa ma anche per trasferirti da un amico c'è bisogno delle shard no perché perché ho il counter di una shard che teleport to friend ma che ha lo stesso cosigno allora lo stesso immagino diciamo che tutte le modifiche che stanno facendo che stanno portando a questo titolo allora è un po' pesante ultimamente si sta diventando più simile a everquest next che è l'obiettivo vero di questo gioco qui ci sono ancora e non sappiamo perché i nostri prop volanti i rimasuli dei nostri prop ma non è vero abbiamo recuperato tutto si ma rimangono qui questo è quello che hai piazzato tu assicurato anche qui sotto si è per questo si perché questo era nel terreno io avevo scavato qui ti ricordi si chi sa perché c'è ancora questa roba in giro non lo so noi l'abbiamo riposizionata qualche metro più in là eccola eppure si è decisamente un posto migliore hai visto la scala? si ho visto l'ho anche usata l'unica cosa è che non dà l'ingresso al giardino la scala si perché dall'altra parte volendo ci si potrà fare dovremmo proprio disegnare su qualcosa cosa vogliamo che ci sia qui dietro non ne ho davvero idea è un gran bel buco adesso però entriamo dentro va ho rifatto l'ingresso qui dobbiamo rimetterci la porta si va rimesso tutto avevamo anche un bellissimo albero di natale qui in questo angolo c'era un angolo natalizio che avevo preparato per Russia tu sei a piedi nudi anche no si ho l'infradito come te è l'infradito sulla neve poi ci vengono raffreddori tu pure hai l'infradito comunque nella tua borsa ci sono tante cose che vado a piazzare adesso qui nella bravo l'unica cosa che ho che ho riarredato è il locale no lo sai che non ci sta? no no non ho più nulla no ho il geyser ti metto l'oil geyser se vuole uno me lo conservo e mi conservo anche che li metto tutti a te scusa apri un po' la cassa porte e l'ho aperta la cassa porte non abbiamo le stesse cose ognuno ha la sua cassa porte ok che ti devo passare allora? porte cuscino porte botte bellotto candelabri tavoli luci luci che altro vuoi? eh il quadro ok ho anche dei simpatici prop tavolo lungo si che stagliere vuole a ripare anche il passato no se vuoi ho anche ehm altra porta entro dappre tutte quelle cose qui sotto ok inizio a trattarti questo poi prendo il resto ok ehm quattro ne posso avere al momento ehm ecco 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 bene bene quando vuoi o il resto devo andare a posizionare il giardino qui io sai cosa posso posizionare le bandiere in testa o le già messe? no no non le trovo qui per le bandiere non le trovo qui per le bandiere no queste sono per le claim una 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 quella quella per le candelabri posto i due tavoli lunghi ok valla valla a piazzare allora posto cancella valla a piazzare sopra al tetto di testa guarda che già c'è non l'avevo visto vabbè ok l'altra se dovrà andare a piazzare se ci riesci sul tetto dell'altra parte ma sopra proprio ce l'hai il gancio? ce lo dovrei avere da qualche parte vabbè ma non lo fate non è necessario farlo ora si però ok la metteremo di la si per esempio io provo qui guarda è uno di quei così triangolari si che metto la casetta da posto almeno si però ho capito questa è una bella cosa che mi disturba io qui avevo finito eh? dobbiamo fare delle linee si io qui avevo finito di pulire giusto ieri io sto pulendo letteralmente poi decidiamo qui che farne per benino eh tu sei la redatrice tu sei la redatrice si se riempirla di nuovo col terreno non lo so perché tanto ripeto ripeto 173 prop non si improvvisano in un giorno di game e ovviamente riparare ripristinare nelle condizioni ci da pure questa si si di coprire in maniera più sensata gli errori che avevamo fatto ok ci sono due sempre accesi poi ci inizio essendo a caldo io quindi l'ho fatto almeno non è per questo che Russia sia abbastanza affidabile in questi casi assicuro che un po' caldo lo fa credo che dovremmo spegnere anche danni e non lo ha detto ma è da capirare che è stato sollicito qui siamo da sparati nella polizia ecco un'arte frata un'arte frata un'arte frata un'arte frata 20 minuti E rieccoci, ci telefonano e noi rispondiamo. Mi dica, questo sporgeva un po' il titolo all'interno, sul muro esterno, questa parte è qua. Guarda, ti vedo da qui su, tu li vedi? Sì. Salve. È finito, come vedi? Sì, io controllo sempre i muri, almeno sul perimetro, non ci siano glitch e o problemi, e o, ma non faccio citazioni manco ma presto. Forse ho fido gli affari, ho un po' imbarazzante. Però lascio così, lascio cadere, forse ho fido... Non, stavo facendo qui il recinto del giardino e faccio duplica i pezzi, e non mi duplicava più, e ho finito i pezzi nell'inventario. C'è io, io credo. Vedo, nel mio inventario sencero li vado a prenderli. Allora, quindi adesso posso essere un sacco i grini. Ok, no, ce li vado ad andare a prenderli.